Ciao ragazzi, oggi nuova challenge, una challenge completamente diversa, si chiama la scavetto challenge, la pallonetto challenge, la pelle challenge, chiamatela come volete, sono insieme sempre a Redondo in modalità borghese che fischietta, insieme ad Emanuele con la maglia dell'Inter, questa volta però una maglia firmata, pensate, da Diego Milito, essendo quindi una sfida al pallonetto, allo scavetto, al cucchiaio, è da qui che si vedrà veramente chi ha il piedino fatato, forse è solo un campo di pallone o forse no, forse è molto, molto di più, traversa, clamorosa e poi il pallone che si vila oltre il montante, attenzione la confusione, la posizione quasi impossibile, è riuscito a far partire questo diagonale, Mamma mia, mamma mia, cosa abbiamo visto amici, 50 metri, non lo so, traversa piena, applausi a scena aperta, vabbè cambiamo, facciamola diventare una crossbar challenge, 2, 1, 0, dalla distanza, col sinistro, e sarà rimessa dal fondo, incredibile, vieni, prova un pallonetto, fantastico, 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 cosa abbiamo visto, fantastico Sandro, e se lo merda il giocatore che in questi ultimi tempi ha fatto meglio di tutti. Go! Fattene a casa! Te ne devi andare proprio a casa, lascia proprio perdere! 3, 2, 1, go! Il suo centro pericolosissimo sul fondo. Go! Zora tiro, prova! Che brivido anche qua. Go! Parte il tiro, è la decisione più sbagliata. Brogna Pjanic. 3, 2, 1, go! È buono, è buono, è buono! Sì, ma io ora me ne sono accorto che non guarda neanche. 3, 2, 1, via! Parte il tiro! La palla, scuola il palle, va sul fondo. Via! Ma come si fa a farlo giocare ancora? Cioè, un errore così non lo vedo nei tempi, non so, guarda qua, ma dai, ma ragazzi! Guardatelo, dite voi qualcosa! 3, 2, 1, go! Guarda cosa fa! Alla lucidate, lucidate! Poi, poi, poi ci vuole la qualità anche, tocca di sinistro, lui inconclude di destro. 3 pallonetti, 0 gol. Più che pallonetti erano degli obbroperi. 3, 2, 1, via! C'è il piazzato sul fondo! C'era l'intensità, c'era la traiettoria, ma non c'era la precisione, peccato, bel tiro. 3, 2, 1, via! Sinistro! È fuori di niente! Che partita! Questo non è un portiere, questa è una sala cinesca. Lo scavetto! Aderrete! Se gonfio la rete! Se gonfio la rete! Se gonfio la rete! Le fa falle, prendi. Vola, 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 vola la primaia! 3, 2, 1... Brava lui! Che brivito! 3, 2, 1... 1, 2, 1... Parte il tiro! Può fare il miracolo, vediamo, sistema la palla, possiamo infilzare, attenzione! No! C'è la pippa, va dai! 3, 2, 1, via! No! E il pallone termina fuori, non di molto! Tu sei avvantaggiato che lui è il basso! E io sono quello sfigato che ci sei tu che sei alto! E' dura la realtà! Le distanze ci sono! 3, 2, 1... Vai! Con la mano di richiamo, quella sinistra, verso il palo destro, riesce a mettere in angolo! E Daniele fa valere la sua statura! 3, 2, 1... Ma questa seconda parata ha qualcosa di assolutamente incredibile! Di miracoloso! Daniele, se gentilmente mi fai un altro passo in avanti, grazie! Sì, se tu cresci di qualche centimetro, grazie! Praticamente a botta sicura viene deviato il calcio d'angolo! 3, 2, 1, via! Va col destro, alto, non di molto! 3, 2, 1, via! Col destro! E vabbè, ma lui è il gigante! Mi devo trasformare nel tubone! 3, 2, 1, via! Il tiro! Conclusione pericolosissima! Ad arrivare al pallone veramente ci è voluto un gigantesco scatto di Reni! 3, 2, 1, via! Alza il pallonetto! Pallone sul fondo! 3, 2, 1... Prova a tirare da lì! Oh! Che gol! Dio mio! Che gol pesante! E la palla si è infilata là! 3, 2, 1... Terzo piazzato! Debono! 3, 2, 1... E no, 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 no! E non va! E no, 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 no! Corre, mi distrae! Si rifà! Mi dispiace! Si rifà, Giccio! Oh! Perché si rifà? Perché non può correre! Mi distrae! Vabbè, rifalla! Dai, dai! Mi distrae! Io sono stato fermo, immobile! Sì, sì, va bene! Vabbè! Lui parla! Ora fermo! Corre! Si schetta! Alto sui segni e non la monterò mai! Via! 3, 2, 1... Cerca il tiro! Trepitoso intervento in calcio d'angolo! Guardate che ha tolto! Che portiere! Ebbene sì, abbiamo un vincitore che è anche molto prepotente! Prima sfida vinta da Michele Ridondo in Borghese! Pessima figura invece per Emanuele! Discreta figura per me! Faremo una rivincita! La vedrete settimana prossima! Se questo video vi è piaciuto lasciate un like! Se non siete ancora iscritti iscrivetevi! Per adesso è tutto! E alla prossima! Ciao! Ciao!